Ormai è tardi. Sono arrivati. Buongiorno padre, commissario Némence di Parigi. Qualcuno manca all'appello? Nessuno. Fate un test del DNA per sapere chi è. Filippe Sanchitar. Era pazzo ma non finò a questo punto. Ma da quando aveva rivisto la sua luce? E ha un nome, questa luce? Gesù. Ma dove è uscito questo stronzo? Dove vai? Combinato così. Posso aiutarti? Sono della polizia. Chiama un'ambulanza. Quel convento è maledetto, lo sanno tutti. Ma loro non hanno voluto ascoltare. Chi sono loro? Padre! Forza, respira. Bloccate le porte! Qualcuno è rientrato nel palazzo? No, nessuno. Girati lentamente. Némence. Hai finito la scuola? E lei? Ancora non va in pensione? A chi pensi che li affidino i casi più rognosi? L'apocalisse è racchiusa in sette sigilli che proteggono il sacro libro. A terra! Sono arrivati! Némence, cosa vogliono? Non ne so niente. A destra! Fermo! Fermo! Cos'è questo delirio? 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 Cos'è questo delirio?